buongiorno a tutti e ben trovati sul mio canale oggi video tag perché voglio rispondere all'invito della mia amica selvaggia del canale essendesse style and makeup rispondendo quindi alle 11 domande del tag il makeup della mia vita e non perdo tempo perché so immagino che parlerò come sempre un po troppo la prima domanda è qual è la limited edition di cui sei più soddisfatta e non ho avuto dubbi sulla risposta perché è sicuramente la daring game di kiko la collezione autunnale dello scorso anno una limited edition che praticamente si ispirava al mondo dei casino del gioco con i packaging che proprio richiamavano le carte da gioco e i dadi una collezione dedicata alla donna che ama il gioco della seduzione quindi con tonalità vivaci vivaci intense ma nello stesso tempo eleganti e sofisticate io ricordo ancora lo stupore quando in piena estate a sorpresa mi sono ritrovata di fronte a questo stand con la collezione appena esposta non avevo ancora il canale altrimenti avrei fatto un video di 32 ore su questa collezione che era anche molto ampia ricordo anche un pennello un siero viso delle palette con terra e illuminante poi c'erano delle palette le palette che poi erano impreziosite quindi da dai segni insomma delle delle carte cuori quadri fiori picche questa per esempio se riesco ad aprirla e non è detto era una delle palette di ombretti della collezione daring game bellissima e poi c'erano delle palette con dei blush affiancati questa era una palette della collezione bellissime matite occhi e soprattutto i prodotti che hanno attirato maggiormente la mia attenzione sono stati i matitoni ombretto che praticamente presentavano delle tonalità splendide e che io ho utilizzato tantissimo sia come basi per ombretti in polvere che da soli e uno per tutti e tutti per uno il numero 33 bellissimo questo viola scuro intenso che ho usato molto lo scorso anno ma continuo ancora ad usarlo ne ho anche uno di scorta ed è veramente bellissimo poi c'erano splendidi anche gli smalti in questa collezione e smalti effetto gel quindi glossati e con questo pack molto carino che praticamente aveva il sovratappo diciamo bianco e che andava quindi a richiamare le facce la faccia di un dado e i colori erano bellissimi questo è sempre un colore che faceva parte della daring game di kiko ma in particolare quello che più mi ha entusiasmato di questa collezione erano sono stati i prodotti labbra perché la daring game comprendeva sei rossetti dal finish semi matto al colore pieno e intenso perfettamente abbinati alle loro matite labbra quindi perfette per definire il contorno ma anche proprio da utilizzare come basi per questi rossetti non potete capire quanto io abbia apprezzato questa scelta di trovare quindi le matite abbinate ai rossetti chi mi segue lo sa io non utilizzo i rossetti senza le matite e spesso è una fatica andare a cercare andare a trovare una perfetta corrispondenza in quel caso erano perfette le matite al colore abbinate perfettamente al colore dei rossetti i colori erano molto graziosi ricordo un bel rosa un corallo un rosso un colore particolare tra il rosa e il rosso che aveva dei riflessi dorati all'interno anche la matita poi c'era un borgogna non molto scuro e poi lui quello che io ho usato sicuramente di più in quella di quella collezione che era è il numero 34 active fucsia vi faccio uno swatch un colore di una bellezza assurda la pigmentazione di questi rossetti era e sembra che sono morti è incredibile come vedete oltretutto dei rossetti anche confortevoli piacevoli proprio da indossare nulla da dire veramente su questi rossetti e su questo colore che come vedete è un intenso viola che ha sicuramente viola rosa fucsia che ha anche una nota violaggia all'interno e questo è proprio il rossetto che da allora praticamente dalla scorsa estate vive nella mia borsa per farvi capire quanto io ho apprezzato questi rossetti abbinati alle loro matite in questa busta praticamente sono contenuti praticamente una copia una copia di scorta di tutte le matite con i sei rossetti combinati cose che solo io ovviamente preso tutto questo ai saldi cose che posso fare solo io nell'universo allora andiamo alla seconda domanda quale prodotto utilizzi proprio tutti i giorni non ho avuto dubbio anche qui si tratta della base per ombretto la primer potion anti aging di urban decay perché la sto girando nelle mani perché volevo trovare il lato più giusto per mostrarvela insomma questa è la confezione e si tratta quindi di questo primer potion di urban decay che è nella versione anti età io ho utilizzato per anni la versione originale ovviamente da quando è uscita la versione anti aging utilizzo ovviamente questa ho altri primer occhi mi capita di utilizzare magari la love stage di essence che porto anche con me per viaggi e trasferte però sinceramente io adoro questo prodotto non ho mai avuto problemi di durata con il make up occhi io la sera mi strucco come appena truccata sia con prodotti low cost che con prodotti high cost quindi sicuramente migliora la resa degli ombretti rimangono quindi proprio i colori pieni intensi e luminosi non vanno nelle pieghette e durano tutto il giorno in più questo ha anche un'azione anti età esercitata sia diciamo nell'immediato perché la palpebra appare proprio levigata uniformata e illuminata e ho letto in diverse review anche di un effetto tensore immediato però sinceramente io non l'ho notato se c'è e poi dovrebbe avere anche un'azione anti età come dire prolungata diciamo nel tempo un affetto anti età che dovrebbe essere visibile dopo l'utilizzo costante del prodotto per almeno otto settimane perché nella composizione contiene ingredienti leviganti idratanti e rassodanti e io utilizzo sempre per il contorno occhi altri prodotti anti età quindi non so se realmente ha un'efficacia a lungo termine ma sicuramente nel dubbio preferisco utilizzare questa versione anti età e anche per un altro motivo perché in realtà mi aiuta ad idratare bene la zona perché io soprattutto d'inverno ho la palpebra secca e quindi questa è una base rinunciabile perché mi aiuta ad evitare il temuto effetto palpebra secca, palpebra increspata terza domanda qual è il prodotto make up che ti fa sentire veramente bella? detto da una rossettone come me sembra strano ma non è il rossetto bensì l'eyeliner e io con una bella riga di eyeliner con l'occhio felino mi sento sicuramente più bella e più sicura per me l'eyeliner proprio trasforma lo sguardo ed è una vera e propria arma di seduzione però è vero anche che si tratta di un'arma a doppio taglio perché se l'eyeliner è messo bene voglio dire nulla dà allo sguardo secondo me quell'intensità un'intensità unica lo sguardo però se è messo male di conseguenza è invece un effetto spaventoso veramente terribile e quindi è importante sicuramente la pratica per fare una bella riga di eyeliner ma secondo me è altrettanto importante quella di dotarsi degli strumenti giusti che ne facilitano l'applicazione in questo senso io sicuramente ho trovato l'eyeliner dei miei sogni ed è l'Ecriture di Chanel è di tra lungo l'eyeliner più semplice che abbia mai utilizzato grazie a questo io faccio la riga di eyeliner ormai anche quando vado di fretta ha un applicatore in feltro quindi un pratico eyeliner in penna ha un applicatore in feltro che è assolutamente perfetto non è né troppo duro né troppo morbido ha la giusta flessibilità che consente di tracciare quindi delle linee di ottenere un tratto in assoluta semplicità intenso, preciso ed omogeneo la scrivenza è totale con una sola passata il tratto è pieno, il finish è semi opaco la durata è estrema, l'unico neo è che ha un costo di 33 euro però per me vale ogni centesimo infatti ho ricomprato, ho comprato anche la versione marrone quindi oltre che l'eyeliner nero il marrone è quello che indosso proprio stamattina perché praticamente quando ci si abitua a questo eyeliner è veramente difficile tornare indietro e utilizzare gli altri domanda numero 4 qual è il prodotto make up che ti ha più deluso? non so se ve ne ho già parlato mi sembra di sì in un altro video però mi dispiace parlare di questo prodotto male perché si tratta di un brand del quale comunque apprezzo tanti altri prodotti ma questo prodotto per me è stato veramente deludente sto parlando del primer, della base opacizzante Dr. Feelgood di Benefit un prodotto che per me che ho la pelle mista che tende a lucidarsi sulla zona T e i pori dilatati si presentava come portentoso perché in buona sostanza è una cipria solida un balsamo opacizzante che dovrebbe quindi minimizzare la visibilità di pori dilatati e piccole rughette lasciare la pelle liscia, vellutata e completamente matt come si usa? si tampona praticamente con la sua spugnetta scusate l'immagine raccapricciante ma ho provato qualche volta ad utilizzarlo quindi tamponato direttamente sopra il make up oppure da solo ora la confezione è sicuramente molto carina anche se si fa un po' di fatica ad aprire e chiudere ha sulla parte frontale questa immagine molto romantica andando ad aprire il suo coperchietto si viene letteralmente se si riesce ad aprire perché come vi dicevo non è semplice si viene letteralmente investiti dall'odore di questo prodotto che è molto forte e per me anche molto sgradevole è un odore proprio di medicinale io non sono molto sensibile agli odori però veramente questo è sgradevole è altro che il melone dei rossetti di Milani e praticamente si presenta come un blocco di cera in buona sostanza che diventa, diciamo, si ammorbidisce un po' passando, diciamo, si scioglie, si ammorbidisce un po' passando magari il pastello sopra delle dita o sfregando sopra con questa spugnetta perché non sono mai riuscita a trovare soddisfazione con questo prodotto? perché io ritengo che questa texture sia troppo, veramente troppo dura, pastosa e cerosa quindi io non riesco a prelevarla bene a spalmarla, diciamo, sul viso quando vado a tamponare con la spugnetta praticamente non aderisce bene e si sbriciola se invece vado praticamente a passare la spugnetta sul viso rimuove tutto il make-up precedentemente applicato se per sbaglio se ne applico una quantità, diciamo, un po' più del dovuto praticamente la sensazione è quella di indossare una maschera di cera quindi altro che texture leggera, invisibile, senza peso è un prodotto che secondo me invece appesanzisce molto la pelle e in realtà non ho neanche mai visto tutto questo effetto perfezionante è un po' opacizza sicuramente ma sui pori non ho mai visto questo grande lavoro insomma, almeno sui miei pori ora, visto che mi dispiaceva ho voluto provare a dargli una seconda chance in estate ho pensato, magari l'inverno è così dura la texture l'estate con il caldo magari posso sfruttare il suo potere mattificante anche per i ritocchi nulla di che perché addirittura se è possibile rende la pelle anche più oleosa quindi sinceramente mi dispiace ma questo per me è proprio un prodotto diciamo, tranne la confezione non c'è nulla che mi piaggia in questo prodotto di benefit domanda numero 5 qual è il prodotto make-up che hai desiderato per molto tempo e alla fine hai acquistato la palette di The Balm Meet Matte Nude una palette che contiene 9 ombretti dalle tonalità naturali e dal finish completamente opaco il pack è molto grazioso, carino come sempre per i prodotti di The Balm in cartoncino con chiusura magnetica e diciamo, i pack e i concept di The Balm sono sempre spiritosi in questo caso The Balm ha voluto collegare il nome di questa palette a questo ipotetico uomo di nome Matte infatti il nome della palette in italiano viene tradotto come incontrare Matte Nudo e anche i nomi, quindi gli ombretti che sono all'interno portano praticamente i nomi di 9 Matte diversi con più un cognome di nazionalità diversa ma tornando alle caratteristiche più interessanti della palette come vedete, gli ombretti hanno una notevole dimensione e anche lo specchio di dimensioni sicuramente generose gli ombretti, vi dicevo, hanno un'ottima pigmentazione una texture setosa sono solo leggermente polverosi ma nulla di importante si sfumano facilmente e hanno un'ottima durata la bellezza qual è di questa palette? che le tonalità sono molto versatili quindi sono adatte per un look da giorno ma anche per degli smoghi intensi serali e ci sono tonalità sia calde che fredde quindi per tutti i gusti sono quindi tonalità completamente opache quindi questa è una palette perfetta proprio per chi ama il look completamente opaco ma devo dire la verità per me è fantastica anche, infatti la tengo sempre vicino a me per bilanciare un look luminoso spesso io magari utilizzo un ombretto invece shimmer luminoso sulla palpebra mobile e vado poi quindi a bilanciare il look utilizzando uno di questi colori nella piega i miei colori preferiti sono sicuramente il Matte Garcia questo marrone caldo e splendido questo Matte Sing che è questo colore particolarissimo un marroncino rosato, beige che come colore di transizione è molto bello il Matte Italiano quindi questo Matte Lombardi che è questo giallo sabbia molto particolare e il Matte Hang che è questo diciamo torto a violaggio dal sottotono freddo in ogni caso io da quando ho questa palette veramente mi dispiace non averla acquistata prima domanda numero 6 pochi prodotti ma buoni oppure tanti low cost io risponderei tanti buoni e tanti low cost perché diciamo la spassionata lo sapete il collezionista compro diciamo tanto e spesso in entrambe le categorie ma in realtà vorrei dividere la risposta in due parti perché io sicuramente preferisco tendo a preferire pochi prodotti ma buoni per quanto riguarda la base viso perché ricerco effetto perfezionante tenuta impeccabile è sicuramente più difficile trovare prodotti con queste caratteristiche tra i low cost mentre tranquillamente propendo per tanti e low cost perché amo cambiare per prodotti come rossetti ombretti matite labbra matite occhi io in ogni caso con i rossetti per esempio Wet n Wild Wicon Milani ombretti Makeup Revolution Sleek Kiko per giusto per citare qualche brand riesco comunque ad ottenere un risultato soddisfacente sia in termini proprio di colorazione che per quanto riguarda quindi la tenuta la durata allora domanda numero 7 il regalo di make up più inaspettato e gradito allora io da tanto tempo desideravo provare qualcosa del brand sensai del brand giapponese sensai ma considerando i costi appunto considerevoli e non ho mai poi visto dal vivo uno stand ho sempre rimandato e finché praticamente ad aprile dell'anno scorso quando ho fatto 40 anni una zia dico inaspettatamente perché di solito ricevo regali di brand più che altro Dior e Chanel che sono i più gettonati e invece arriva con questa splendida pochette sensai che praticamente contiene all'interno che ancora non ho mai utilizzato diversi diverse mini size ma tante sono queste mini size di vediamo se riesco a far vedere qualcuna di prodotti mi cadrà tutto a terra vabbè comunque c'hanno tante mini size in buona sostanza di prodotti creme sieri prodotti per la pulizia del viso in più ci sono invece due prodotti in full size uno è questo ed è praticamente un bellissimo bronzer che in realtà ho solo sbocciato perché questa estate stavo utilizzando 15 bronzer insieme oltretutto poi con le palette da contouring ormai sto perdendo l'abitudine di andare a prendere il singolo bronzer il singolo illuminante il bronzer il bronzer è questo è bellissimo ha una texture sottilissima e delle sottili per le scienze dorate lo utilizzeremo prima o poi insomma nel corso dell'esistenza però in più in questa pochette c'era un fondotinta questo fondotinta che si chiama silky bronze sun protective compact ed è un fondotinta con protezione solare un spf 30 è un prodotto che ho adorato quest'estate in realtà all'inizio dell'estate perché io ce l'ho nel colore sc01 light quindi un colore un po' chiaro per la mia pelle abbronzata l'anno prossimo lo comprerò sicuramente direttamente di una tonalità più scura è quindi un fondotinta compatto solare ad azione anti età tra gli altri ingredienti contiene vitamina B che ha quindi questo stimolo alla produzione di collagene è praticamente un prodotto resistente all'acqua quindi fantastico perché è resistente anche quindi al calore al sudore la texture è fantastica che ve lo dico a fare morbida vellutata è anche coprente quindi minimizza le imperfezioni e lascia la pelle veramente liscia e vellutata ha tenuto un effetto veramente impeccabile che dura per diverse ore è anche opacizzante ha un finish direi semi matt ma molto naturale assolutamente nulla di pesante o di polveroso il pack come vedete è molto elegante è pratico compatto dentro si vede che è un prodotto sicuramente di qualità dentro ha la sua spugnetta e il suo specchio e sulla cialda c'erano delle onde in rilievo che diciamo talmente usato che non si vedono più si può utilizzare con la sua spugnetta asciutta o bagnata per aumentarne la coprenza io solitamente l'ho applicato con un flat book e ho utilizzato la spugnetta asciutta solo per i tocchi comunque è un prodotto diciamo il primo prodotto sensai che veramente utilizzo e lo andrò sicuramente a ricomprare perché l'ho trovato veramente eccezionale domanda numero 8 questa è fantastica qual è il tuo rossetto preferito in assoluto domanda difficilissima perché io non ho un solo rossetto preferito e ho cercato di pensare ad un rossetto perfetto pensando e ripensando mi è venuto in mente un rossetto che contiene il termine perfetto nel suo nome e sto parlando di questo rossetto di Yves Saint Laurent che è un rossetto della linea Rouge Pour Couture De Max ed è il numero 207 Ros Perfetto che faceva parte della collezione autunnale dello scorso anno però ho visto diciamo un po' in giro sia online insomma un rossetto che si riesce ancora a reperire questa formula io la trovo strepitosa sono dei rossetti che proprio scivolano sulle labbra e le mantengono idratate grazie alla presenza tra gli ingredienti di olio di jojoba sono estremamente pigmentati cremosi vellutati confortevoli durano tanto non seccano le labbra hanno un'ottima durata e anche quando vanno via con il passare delle ore lasciano sempre sulle labbra un velo di colore per me sono tra i migliori rossetti matt in commercio il colore torniamo al ros perfetto è questo e si tratta in buona sostanza di un rosa medio scuro che ha un sottotono una componente violagia all'interno è un colore di una bellezza assoluta un colore che secondo me sta bene su tutte le carnagioni guardate quanto è bello questo rossetto è un colore che secondo me sta bene su tutte le carnagioni perfetto dal giorno alla notte sta bene con tutti i tipi di make up per tutte le stagioni è valido per tutte le età insomma per me questo come dice il suo nome è un rosa perfetto è un rossetto che tutte le donne come tonalità dovrebbero avere per quanto mi riguarda è veramente splendido io infatti l'ho utilizzato magari una tonalità più autunnale però l'ho utilizzato tantissimo anche questa estate questo rossetto di Yves Saint Laurent formula e colore straordinari numero 9 qual è l'ombretto del colore più particolare che hai in questo caso come la mia taggatrice selvaggia devo nominarvi un ombretto sciseido ed è l'ombretto giallo ocra che è indosso nel make up di stamattina è uno shimmering cream eye color è uno delle ultime cinque tonalità rilasciate proprio quest'autunno che però le trovate in gamma permanente questi ombrettini hanno una formula straordinaria sono morbidi pigmentati facilissimi da applicare sia con le dita che con il pennello hanno all'interno delle micro perle che però illuminano senza essere invadenti quindi hanno una luminosità molto delicata un finish non metallico quindi risultano molto portabili e perfetti per un uso quotidiano la durata è ottima non vanno quindi nelle pieghette tanti li utilizzano senza primer io preferisco sempre utilizzare il primer e sono pigmentati ma modulabili quindi si possono stratificare per raggiungere l'intensità desiderata la cosa fantastica di questi ombretti è la consistenza questi si hanno una texture sottile leggera impalpabile confortevolissima non seccano mai la palpebra di più il plus di questi ombretti e il fatto che hanno una scadenza di 24 mesi io ne ho diversi da anni non si seccano questi ombretti quindi diciamo una cosa positiva che costano 30 euro però non si corre il rischio di diciamo doverli buttare trovarli secchi dopo un paio di mesi e secondo me propongono anche delle tonalità molto particolari come questa che indosso che si chiama l'ombretto OCR numero BR in codice BR329 ed è questo bellissimo inedito marroncino giallastro io non ho un altro ombretto con questo colore è veramente splendido per me ed è quindi il colore che indosso stamattina e ha all'interno delle particelle luminose ve l'ho già mostrato nel video sciseido però facciamo anche adesso uno swatch e all'interno delle piccole particelle luminose che vanno dal bronzo al rosso so che non è un colore che può piacere a tutte però per me ecco qua per me è assolutamente sofisticato e molto particolare veramente un colore splendido sia abbinato con il marrone io ho sfumato poi nella piega con un ombretto marrone della palette di De Balm la Meet Matte Nude che vi ho mostrato pochi minuti fa se sulle labbra è giusto a chi può interessare io ho sempre un ossetto di Cisedo uno dei Perfect Rouge degli ultimi usciti è il colore Black Walnut allora domanda numero 10 c'è un prodotto di make up che hai in wish list e non hai ancora acquistato? allora nonostante io potrei vivere altri 3000 anni senza aver bisogno di nulla però la mia wish list è piena di prodotti uno esce e tre ne entrano comunque uno che fa parte diciamo è nella mia lista da un bel pezzo con calma Paola è un prodotto della linea make up della make up artist inglese Charlotte Tilbury e sto parlando del duo film star bronze and glow praticamente è un duo diciamo da contouring c'è una terra per sculpting e un illuminante quindi niente di così diciamo di trascendentale però si presenta poi in un park raffinatissimo e oro rosa che praticamente si ispira ad una porta sigarette anni venti è uno sfizio sarebbe uno sfizio ovviamente uno sfizio che però costa 65 euro quindi fino a finché non avrò la versione diciamo di Charlotte io mi consolo con il dupe con la sua versione economica che invece è questo prodottino di double seven del brand inglese che ha anche sopra le cialde lo stesso disegno di raggi in rilievo come l'originale sicuramente ci saranno delle differenze con l'originale però devo dire che è un prodotto quindi che costa 5 euro e che ho utilizzato tantissimo perché comunque è facile da utilizzare facile da sfumare le polveri hanno comunque una buona pigmentazione allora l'ultima domanda è tagga io ho visto che Simona Simon Loves Makeup e Agatha di 176 hanno fatto già questo video da recentemente insomma da pochi mesi quindi ho deciso di taggare Eleonora del canale i sogni della Ele che non finirò mai di ringraziare per le belle parole che mi ha dedicato in uno dei suoi ultimi video Astrid del canale Astrid Poletti Eliana del canale Nutella www Manuela Rodriguez dell'omonimo canale però invito tutte voi che avete canali dedicati al make up se avete voglia di fare questo tag perché lo trovo veramente carino e assolutamente può fornire degli spunti interessanti e mando un bacio a Selvaggia e alla sua piccola con la varicella spero di non avervi annoiato vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima Grazie a tutti